Scoop di La 7. Durante in onda, nella puntata di mercoledì 6 luglio, Concita De Gregrio e David Parenzo mandano quanto detto da Giuseppe Conte finito l'incontro con Mario Draghi. Il motivo? Il leader del Movimento 5 Stelle smentisce le fonti di Palazzo Chigi sul sostegno dei grillini al governo, non posso assicurare il sostegno, quindi quanto detto non corrisponde al vero. Una vera e propria bomba politica. E ancora, dalle risposte del Premier capiremo se sostenere o meno l'esecutivo, le risposte saranno determinanti. D'altronde l'ex presidente del Consiglio aveva già ammesso, a Draghi ho consegnato un documento, a nome di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Abbiamo maturato un forte disagio politico, siamo disponibili a condividere la responsabilità di governo in modo leale e costruttivo, ma occorre una forte discontinuità. Finita qui? Neanche per sogno perché successivamente di fronte ai parlamentari, Conte ha ribadito, bisogna cambiare marcia, bisogna intervenire con una serie di interventi sociali contro i rincari dell'energia, l'inflazione e il lavoro povero. Noi non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, abbiamo giurato fedeltà agli italiani e al paese. Se non riusciamo a perseguire i nostri obiettivi per gli italiani viene meno la ragione di essere qui. Grazie a tutti.